Come sarebbe? Sarebbe allacciati la cintura, Alice, perché da adesso di meraviglie ne vedrai un bel po'. La realizzazione di alcuni importanti progetti è frutto della collaborazione con altri concessionari della rete. Il parco installato oggi della Fram è di circa 300 aziende. Una bella meraviglia, non solo detta da me ma anche dal cliente. Ma cosa? Ma tu conosci già quello che io sto per dirti. La mia risposta è stata il software gestionale 2 di Zucchetti. Una soluzione che per la sua competenza funzionale, flessibilità e capacità è in grado di risolvere problematiche relative di aziende di piccola e media dimensione. Il segreto di mio successo è la fiducia nei miei collaboratori, la loro competenza e la loro professionalità. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. È cominciata con la scelta di offrire sistemi avanzati di gestione aziendale, SAGA, e siamo entrati in Zucchetti nel 2007. Entrare in Zucchetti è stata una scommessa eccezionale, perché abbiamo convertito il 90% del nostro parco portando più di 100 aziende ad usare Adhock Revolution. Il segreto del nostro successo? Per seguire la massima qualità in termini di prodotto e di servizi. Sei sicuro di volerlo sapere? Presto sarei obbligato a fare una scelta. Ed io ho deciso di puntare sull'efficacia dei servizi pre e post vendita. Ciò che caratterizza la nostra azienda è la rapidità d'azione, attenzione alle agenzie del cliente, puntuale e preciso servizio di assistenza.